Lo sportello dentro lo smartphone. Da oggi si può prenotare una prestazione sanitaria, pagare e ritirare il referto, tutto online e senza fare la coda, attraverso il nuovo sportello virtuale del burlo garofolo. La novità, presentata oggi all'ospedale materno infantile, consente un accesso più agevole agli esami di laboratorio e alle visite ambulatoriali. Ha il significato di evitare qualsiasi accesso al burlo che non sia estrettamente necessario per la prestazione sanitaria. Quindi se devo fare un prelievo evidentemente devo venire, se devo fare una visa devo venire, un intervento chirurgico anche, ma tutte le altre attività che non sono soltamente sanitarie possono essere gestite in remoto. La prenotazione, il pagamento, la prenotazione di una coda, lo scarico del referto una volta eseguito l'esame possono essere fatte a casa o addirittura col proprio smartphone in qualsiasi momento della giornata. E attiva anche una app, Kodakoo, che mette in fila virtualmente il paziente attraverso lo smartphone. Ideata e realizzata dall'omonima start-up che ha sede in area Science Park, l'applicazione permette l'accesso diretto all'ambulatorio all'ora indicata. Il nuovo sistema è già operativo, il servizio è particolarmente utile per le donne in gravidanza o per gli studenti con più di 14 anni. I minori hanno già la precedenza, che non vogliono perdere ore di scuola. Abbiamo questa peculiarità di avere una popolazione che accede al burlo prevalentemente, sono adolescenti, giovani, coppie, quindi insomma che nativamente o comunque con grande dimestichezza con gli strumenti informatici. Su questo puntiamo, è uno degli strumenti che ha a disposizione, non è detto che sia l'unico, ed è comunque un modo di consentire appunto di evitare gli stress, evitare le ansie, avere certezze sui tempi, che spesso è una cosa che crea problemi.